da lì può arrivarci testa dire subito il pareggio del crema proprio lui l'avevamo detto dire uno a grande numero scotto ma che cosa ha fatto scotto ma che cosa ha fatto scotto in area di rigore 3 a 1 a fragolese abbiamo quindi il primo risultato a fragolese 4 crema 2 e in attesa di brindisi scandici tra poco verranno proprio a trovarci adesso segna e sei in finale sbaglia e si va d'oltranza parte froyo è finita la fragolese è campione della i serie d 2022 2023 meritatamente bacio in telecamera applausi da tutti